Grazie Presidente, intervengo su questo ordine del giorno perché mi interessa in modo particolare poter dare una risposta, dire alcune cose in merito alla frase ad operarsi affinché sia prevista l'implementazione di modelli volti al controllo alla misurabilità delle attività svolte. Dal primo gennaio 2019 in AMA è stato introdotto un programma che si chiama SAP, è un programma che viene utilizzato da decenni in molte multinazionali, aziende nazionali in giro per il mondo. È un programma molto complesso, è ritenuto veramente un programma complesso, ma è un programma che permette di una estrapolazione dei dati, dei risultati dell'azienda assolutamente puntuali. Per cui c'è, e lo sappiamo in questa fase, un momento di difficoltà per l'introduzione di questo programma in SAP. Ci domandiamo perché non sia stato fatto negli anni precedenti, perché detto francamente SAP è un programma che c'è dalla fine degli anni 90, esiste. È un momento comunque di difficoltà questo, ma questa azienda AMA sta andando in questa direzione, proprio andare a misurare tutti i livelli e tutti i risultati che l'azienda offre. Pertanto noi a questo ordine del giorno ci asteniamo.